Carpenedolo si prepara per la festa della Madonna del Castello e lo fa come ogni anno organizzando la fiera del Torrone, la tradizionale fiera dei prodotti tipici dei settori dolciario, agliorimentare, enogastronomico e dell'artigianato è pronta ad invadere le strade carpenedolesi sabato 8 dicembre dalle 10 alle 22 e 30 e domenica 9 dicembre dalle 10 alle 20 e 30. Una festa che è stata rievocata, siamo all'ottava edizione della rievocazione e pertanto dell'era moderna, ma una festa estremamente storica. I nostri nonni ben ci ricordano che la vera Santa Lucia Carpenedolo nasceva l'8 dicembre quando si aveva l'opportunità di poter andare per le vie del paese a vedere soprattutto perché a quel tempo dicevano che c'era una grossa difficoltà a vedere queste bancherelle addobbate a dolci e a festa. E noi in sé vogliamo riportare pertanto le nostre tradizioni avanti nel tempo perché siamo ben coscienti del periodo di difficoltà in cui tutti quanti siamo ma dall'altra parte vogliamo anche essere contemporaneamente coscienti nel dire che non possiamo perdere le nostre antiche origini. Un bus navetta sarà a disposizione gratuitamente sabato con partenza dal piazzale dell'Italmark. Anche quest'anno l'organizzazione si deve all'amministrazione comunale ma soprattutto ai volontari e alla Proloco che dopo il successo estivo della fiera di San Bartolomeo si prepara a raccogliere altri consensi. Noi festeggeremo appunto la festa del Torrone con tantissimi espositori. Ci saranno più di cento espositori, ognuno appunto con i loro prodotti enogastronomici, dolci e soprattutto Torrone, espositori da ogni parte d'Italia. Ci saranno anche degli spazi per gli oppisti perché appunto si introdurrà il Natale, cominciano le feste di Natale, praticamente l'apertura delle feste di Natale. Ci sarà anche uno spazio dedicato alle onlus, ci saranno bus navetta, Ci saranno due giornate dedicate a Piazza Grande, esatto, è l'ultimo appuntamento e quindi dedicato al bel canto e con tantissime attrazioni. Tutti gli artisti che si esibiscono, il corpo musicale che farà un concerto appunto in palestra l'8 dicembre per appunto iniziare il Natale con musiche natalizie. Il Palazzo della Franchi è dedicato agli artisti, ci saranno mostre personali e anche mostre di tutti i pittori locali. In concomitanza alla Fiera del Torrone si svolgeranno anche le due ultime giornate di Piazza Grande, il mercatino della musica.